Cos'è? Raduno del Mila. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Sono circa in duecento macachi che stanno aspettando. Duecento macachi lì che aspetta. No. No. Minimo storico. Siamo in duecento macachi. Pulitevi il muso. Oh, ma Marameo non c'è lì anche? Duecento macachi, duecento. Duecento macachi andate a raggiungere. Ho, 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 ho. Grazie.